Una bisca clandestina in attività malgrado le restrizioni dovute alla pandemia è stata scoperta in un appartamento a Bianco in provincia di Reggio Calabria dai carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà irresponsabile un uomo di 31 anni per esercizio di gioco d'azzardo e sanzionato a 14 avventori presenti per assembramento in violazioni delle norme Covid-19. I militari della compagnia nel corso di un blitz all'interno dell'appartamento hanno trovato un tavolo da gioco, fish, carte, strumentazione professionale, un flipper e un barben fornito. A insospettire era stato nei giorni precedenti un continuo e strano via vai di gente dall'abitazione. Una volta all'interno i carabinieri si sono imbattuti in 14 persone, alcune delle quali hanno anche cercato di svignarsela, molte delle quali sedute attorno al tavoliere intenti a giocare a poker. Tra gli avventori anche molte persone provenienti dai paesi limitrofi, Africo, San Luca e Bovalino, tutti con in tasca molto denaro dai 100 agli oltre 1700 euro.